La Giuseppe De Maria Production ti dà il benvenuto nel suo canale YouTube dedicato ai mezzi storici, e ti propone un video contenente una bella galleria di elaborazioni digitali computerizzate in 3D, aventi come soggetto un magnifico esemplare di Fiat 2300 Familiare, modello dell'anno 1963. Nello specifico, la Fiat 2300 Familiare era la versione giardinetta della lussuosa Fiat 2300 Berlina, ossia una imponente vettura, molto ben rifinita, motorizzata con una variante del valido 6 cilindri in linea progettato dal grande ingegnere Aurelio Lampredi, e caratterizzata da una linea esteriore decisamente americaneggiante, che, con piccole differenze, condivideva lo schema meccanico e la foggia della carrozzeria con le meno lussuose Fiat 2100, Fiat 1800, e Fiat 1500 Lunga. L'imponente Fiat 2300 Berlina, che venne prodotta nelle varianti 2300, 2300 Speciale, 2300 Familiare, 2300 Lusso e 2300 Lusso Familiare, ricoprì quindi il ruolo di versione di punta nella gamma comprendente le grosse berline prodotte dalla celebre casa automobilistica torinese nel corso degli anni 60, e venne prodotta in alcune diverse varianti distinte, che riscossero tutte un buon successo commerciale, a partire dall'anno 1961, e sino all'anno 1968. L'imponente Fiat 2400 L'imponente Fiat 2400 L'imponente Fiat 2400 L'imponente Fiat 2400 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci dunque al prossimo video.